Scusate ragazze, volevo chiedervi, ma parli italiano? Sì Perché io non riesco a leggere e la mia ragazza mi ha mandato un messaggio Ok Me lo puoi leggere per favore? In poche parole, è brutto dirglielo però Ti sta dicendo che non può più continuare a stare con te perché si è messa con un tuo amico Non può più stare con me? No, ti sta lasciando perché sta con un tuo amico Ma sei sicura? Sì, c'è la propria scritta Non ci credo Adesso non so cosa fare, non ci credo Non ci credo Mi dispiace Non ci credo davvero, mi ha finito Adesso cosa devo fare? Potresti essere tu la mia nuova ragazza? Va bene Davvero? Sì Perché mi ha ferito Grazie Ma com'è che ti chiami? Jennifer Jennifer Tu? Andiamo Scusami Volevo chiederti, ma parli italiano? Sì Perché la mia ragazza mi ha mandato un messaggio Se mi potresti per favore leggerlo Grazie Ti ha lasciato? Mi ha lasciato? Sì Non ci credo, davvero mi ha lasciato? Non so cosa fare Ma che c'è scritto? Che mi... Che non può più continuare con te Che sedo Non so cosa fare Sono disperato Ma com'è che ti chiami? Valentina Valentina Comunque io mi chiamo Nader Non lo so cosa fare Non lo so Mi potresti accompagnare fino a casa Che non riesco davvero a camminare Non lo so Non so cosa fare Valentina Valentina Interessi per favore Ma sei di qui? Sì Non so cosa fare Valentina Cosa devo fare? Sono disperato Sono disperato male Scusami Sì No aspetta che ti richiamo tra un po' Ok Va bene ciao Volevo chiederti Io non riesco a leggere l'italiano E mi ha mandato un messaggio la mia ragazza Me lo puoi leggere per favore? Sì Ti stai dicendo che non puoi più continuare con te Perché è un altro amico Adesso stanno anche insieme Ma davvero? Sì guarda Adesso stanno insieme Non ci credo Mi ha lasciato Non ci credo Non so cosa dire Mi piace Non so cosa fare No 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 aspetta No no Cosa stai facendo? No 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 Non posso aiutarti io Grazie Mi piace Scusami Parli italiano? Sì Sì E mi puoi leggere? Perché mi ha mandato la mia ragazza Non riesco a leggere l'italiano La tua ragazza ti ha lasciato? La mia ragazza mi ha lasciato? Sì Davvero? Non ci credo Mi ha lasciato la mia ragazza Non so cosa fare Non ci credo No no Potresti essere tu La mia nuova ragazza Va bene Davvero? Bene Grazie Perfetto Allora andiamo a bere qualcosa insieme Va bene Andiamo Ma sei di qui? Sì Ah davvero Sei bellissima comunque Grazie